Beyoncé, suo marito Jezir, Rihanna, Nicki Minaj, Madonna e altri artisti di fama internazionale hanno dato vita qualche mese fa al progetto Tidal, la piattaforma musicale in streaming che permette di scaricare e ascoltare brani ad alta definizione. Al Barclays Center di Brooklyn martedì 20 ottobre si è svolto il concerto evento Tidal 1020 che ha, visto la partecipazione degli artisti e Beyoncé, madrina della serata, si è presentata al photocall con un abito davvero striminzito mettendo in mostra la sua statuaria bellezza, le sue forme burrose e il suo sex appeal senza uguali. Peccato però che mentre i fotografi le gridavano di concedere loro uno sguardo e immortalarla nella migliore delle pose, la sua assistente è intervenuta a tirarle giù il mini dress e a coprirle l'abbondante seno, in buona parte scoperto e lasciato a favore di Flash. La cantante l'ha ripresa con un stop it, smettila a mezza bocca e detto con il sorriso, e ha continuato a stregare i presenti con buona pace dell'assistente costretta a mettersi da parte. Beyoncé sa che l'immagine nel suo lavoro è tutto e che mostrare una scolatura più che generosa può tornarle di certo utile.